Chi ha vinto il grande fratello 15? Alberto Mezzetti vincitore, seconda Alessia Prete Alberto Mezzetti è il vincitore del grande fratello 15. Il Tarzan di Viterbo, ha avuto la meglio sua Alessia Prete, seconda classificata Per rivelare il nome del vincitore, Barbara D'Urso ha usato un modo nuovo e originale Con uno stetoscopio ha controllato il battito dei due finalisti. Metterò uno stetoscopio per ascoltare i vostri cuori Cercherò di capire dal battito, chi è il vincitore del grande fratello, ha fatto sapere la conduttrice Lo stetoscopio, del tutto falso, ha evidenziato inizialmente il medesimo battito per i due Non avete emozioni, avete lo stesso battito. Cosa posso fare? Barbara ci ha così riprovato e quando l'ha appoggiato sul petto di Alberto il battito è aumentato. Mezzetti ha vinto l'ultima edizione del grande fratello Punto, punto classifica completa finale Grande fratello 15, punto terzo classificato, Matto Gentili, che non ha avuto la meglio contro Alessia Prete e Alberto Mezzetti Quarta classificata, Lucia Orlando, battuta al televoto da Alessia Prete, punto quinto classificato, Simone Coccia Colaita, che ha perso al televoto contro Matteo Gentili Sesta classificata, Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo ha perso al televoto contro Alberto La figlia di Bobby Solo ha perso al televoto contro interno Grazie a tutti ..